Simona Zecchi, cominciamo parlando di questo libro e di questo filo di continuità della criminalità che lei definisce servente nel corso degli episodi bui dello Stato italiano. Sì, hai detto bene, non è soltanto nel caso Moro, ma mancava questa specifica di ricostruzione e di inchiesta sul caso Moro, quindi ho seguito le mosse dell'Andrangheta sin dal sequestro fino all'omicidio, ma soprattutto ho fatto anche un lavoro di controindagine rispetto alla Commissione Moro. L'Andrangheta ci ha sempre stata in varie forme, in quelle della criminalità servente lo ha realizzato insieme ad altre entità che non sono fumi e fantasmi, ma sono entità politiche, istituzionali, della magistratura, della massoneria e questo è un livello riservato in cui la criminalità fa da serva ma ricepisce anche un do-des, fino alla trattativa Stato-mafia siamo qui. Lei parla molto spesso di una necessità di coscienza collettiva e non solo di cultura del perdono per intenderci. Sì, assolutamente, senza verità non ci può essere perdono, lo dico a chi cerca di separare queste due strade, purtroppo sia da parte dei protagonisti e delle vittime e sia da parte della società civile. Per questo i ragazzi in questa giornata molto speciale sono i testimoni, perché loro non credo che vogliano la guerra infinita, però vogliono capire cosa c'è dietro a un percorso, come si arriva. Quindi con la collettività, con la memoria, con lo studio dei fatti si arriva anche al perdono. I migliori testimoni sono i ragazzi nella giornata di oggi. Oggi siamo qui a Nereto a veicolare questo messaggio ai ragazzi. Quanto è importante continuare a trasmettere anche alle nuove generazioni questo tipo di informazioni e di video? È importante non soltanto per trasmettere il rispetto delle regole, come qui si è appena menzionato da parte delle autorità che giustamente lo hanno detto, ma proprio per l'importanza di sapere cosa significa fare e recepire informazione critica, sapere come comportarsi davanti alle notizie e non solo di fronte a quelle che oggi conosciamo come fake news, che c'erano anche nel 78 e che venivano gestite da più parti e anche purtroppo recepite. Oggi i ragazzi hanno gli strumenti tecnologici per far fronte a questo che possono essere anche un danno, ma coordinati e gestiti da insegnanti e da adulti che sanno come muoversi possono diventare un esempio e anche loro stessi iniziare un percorso.